Ancora una trasferta amara per la Salernitana che fuori casa non riesce a vincere da lontano 5 settembre. Finisce 2-1 a Como, ma i Granata costretti a giocare gran parte della ripresa in 10 hanno parecchio da recriminare perché almeno un pareggio sarebbe stato alla loro portata. E' proprio la squadra di Breda tra l'altro a passare in vantaggio al diciottesimo e Carrus a sbloccare il risultato con una splendida esecuzione su calcio da fermo. La gioia per il gol dura però solo tre minuti su calcio d'angolo e Gomez a trovare il colpo di testa decisivo. Si va all'intervallo sul pari ma al ritorno in campo il cammino per la Salernitana si fa subito in salita. Pestrin commette fallo da dietro su Cozzolino e l'arbitro lo espelle. Nonostante l'inferiorità numerica però i Granata riescono comunque a rendersi ancora pericolosi. Al ventesimo è Fava a calciare alto da buona posizione. Alla mezz'ora Ragusa non trova il tempo per calciare in porta. Passa solo un minuto e il Como trova il gol del 2-1 con Morandi che indovina un gran tiro dalla distanza. I campani non si arrendono, anche il Como resta in 10 per l'espulsione di Ardito. Ma il risultato non cambia più.